Come funziona la valvola termostatica? Una valvola termostatica è la soluzione ideale per controllare con precisione la temperatura di ogni radiatore e di ogni stanza. Quando sono dotati di valvole termostatiche, i radiatori permettono una migliore regolazione del riscaldamento nella vostra casa. Alla fine, questo si traduce in un grande risparmio energetico e una riduzione della bolletta del riscaldamento. Cos'è una valvola termostatica? La valvola termostatica è molto utile e si installa direttamente su un radiatore. Consiste in una valvola con una sonda e una maniglia. La valvola termostatica può essere montata su qualsiasi radiatore di acqua calda indipendentemente dal sistema di riscaldamento centrale, riscaldamento solare, caldaia a olio combustibile, gas, stufa a legna o anche pompa di calore. In pratica, la valvola termostatica modula il flusso d'acqua attraverso il radiatore dell'acqua calda. Questo semplice principio di modulazione dell'acqua calda permette di regolare facilmente ed efficacemente la temperatura della stanza. Con la valvola termostatica. La valvola termostatica permette di andare oltre la semplice regolazione del termostato, regolando la temperatura di ogni radiatore e di ogni stanza in modo indipendente. Si distingue tra la valvola termostatica manuale, la cui maniglia viene girata per regolarla, e la valvola termostatica elettronica. Con display digitale e programmazione per cicli o fasce orarie, che spesso può essere controllata a distanza. La valvola termostatica più avanzata, elettronica e collegata, risparmia più energia e denaro, ma è logicamente più costosa. Quali sono i vantaggi di una valvola termostatica? La valvola termostatica è installata al posto della valvola azionata manualmente che a volte si trova sui radiatori dell'acqua calda. Permette di regolare la temperatura di comfort della stanza, tenendo conto della presenza e delle esigenze dell'utente, nonché del apporto di calore gratuito, come la luce del sole su una superficie di vetro. Ci sono tre vantaggi principali che sono ottime ragioni per installare una valvola termostatica su un radiatore. Si tratta di comfort termico, risparmio energetico e risparmio finanziario e fiscale. Una temperatura adatta, delicata e regolata l'installazione di una valvola termostatica sul vostro radiatore vi permette di controllare con precisione il riscaldamento. Questo permette di controllare meglio la sua potenza termica e la temperatura che genera. La temperatura della stanza è quindi più piacevole e il comfort aumenta. Regolando la temperatura di ogni stanza al grado più vicino, o anche precisamente, il calore è ottimale e perfettamente adattato alle vostre esigenze. Risparmiare energia o un controllo preciso della temperatura per ogni radiatore con una valvola termostatica significa un minor consumo di energia. In un momento di transizione energetica ed ecologica, ridurre il consumo di energia è importante. La valvola termostatica permette in modo molto semplice di evitare il surriscaldamento di certe stanze o di mantenere una temperatura piacevole in vostra assenza. Meno riscaldamento significa meno consumo. Riscaldare solo quando è necessario è vantaggioso in molti modi. Risparmiare soldi, e tasse, vada sì, ma risparmiare energia significa anche risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica. Indipendentemente dall'energia utilizzata dal vostro sistema di riscaldamento centrale, l'installazione di una valvola termostatica su uno o tutti i radiatori di acqua calda può far risparmiare molta energia e quindi denaro. Ottimizzare il consumo di energia con una valvola termostatica significa anche ottimizzare la bolletta energetica. Come installare una valvola termostatica? Per installare la propria valvola termostatica su un radiatore, basta seguire alcuni semplici passi. Svuotare il radiatore e, o, il circuito di riscaldamento. Smontare il rubinetto attuale raccogliendo l'acqua che può fuoriuscire. Svitare il dado che collega il pezzo a T della valvola al radiatore. Attaccare la nuova T al posto di quella vecchia. Sigillare usando il rullo di teflon con il sigillante per attaccare il raccordo maschio al raccordo femmina. Avvitare l'anello di plastica che collega la valvola termostatica al suo T. E questo è tutto. L'installazione della valvola termostatica è completa. Se volete fare installare la vostra valvola termostatica da un professionista, dovreste aspettarvi di pagare circa 50 euro. Qual è il prezzo di una valvola termostatica? Per una valvola termostatica entry-level, spesso i modelli ad angolo, contano su un prezzo a partire da 15 euro. Ma questo tipo di valvola offre una regolazione limitata ed è molto meno precisa di altri modelli di fascia alta. Ci sono anche meno caratteristiche, ma sono comunque vantaggiose. D'altra parte, una valvola termostatica di prezzo più alto, circa 40 euro, vi offrirà una gamma più ampia di modulazione e regolazione. Queste sono spesso valvole termostatiche elettroniche, collegate o intelligenti. Nel complesso, dovreste aspettarvi di pagare tra i 15 e i 70 euro per tutte le valvole termostatiche, esclusa l'installazione, che costa circa 50 euro. Come se questo prezzo di acquisto non fosse abbastanza vantaggioso, potete anche beneficiare di un aiuto finanziario quando acquistate una valvola termostatica. Se state investendo in questa attrezzatura o state eseguendo lavori di ristrutturazione energetica, potete richiedere le agevolazioni fiscali risparmio energetico, il bonus elettrico, aiuto delle Enase e delle autorità locali, l'eco bonus 2020, l'aliquota IVA ridotta del 10%. L'installazione di una valvola termostatica può far risparmiare energia e denaro mantenendo la vostra casa a una temperatura più confortevole. L'investimento è moderato ma i benefici sono reali e soprattutto duraturi.